Sono cinque le tappe della Corri nei Borghi, l'ottava edizione della Corri nei Borghi. Esatto, sì, l'ottava edizione di quest'anno che va in scena, quest'estate, e sono appunto cinque le tappe. Pare forse un numero un po' ristretto rispetto alle sei dell'anno scorso, però è un momento di assestamento e sono certo che si rilanceranno e altre adesioni verranno nel futuro. Si inizia a venerdì prossimo, per cui è già la Corri in centro di Clusone, venerdì 19, e poi con cadenze settimanali, sempre di venerdì, si andrà il venerdì successivo a Cirete, poi si va a Gandellino il 2 di agosto, si andrà a Castiglione della Presolana in località Bratto e si chiuderà il circuito di sabato, questa volta il gran finale a Parre con la Rampar. In tutti i paesi ci sono delle realtà associative che vi danno una mano nell'organizzazione di queste corse. Certo, sicuramente il circuito vive delle singole manifestazioni che in autonomia organizzano il proprio evento e poi fan parte di questo circuito che è sostenuto da altri sponsor, sia istituzionali che economici e privati, e voglio ricordare senz'altro il pool di Atletica Alta Valseriana, la Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui noi siamo legati da sempre, e i partner invece che sono quelli che danno anche un contributo da Orobie Gas & Power, KM Sport e il distretto del commercio Alta Valseriana legato alla Promo Serio. Ecco, grazie a tutti questi è possibile appunto poi stilare una classifica finale del circuito e giudicarsi appunto dei premi. Quest'anno fra l'altro una grande novità, ci sarà anche un trofeo proprio biennale non consecutivo messo in palio appunto dalla Promo Serio. Ecco, chi può prendere parte a queste corse? Il format di gare direi che è proprio quello vincente, quello che piace e ha pagato per sette anni, lo spero anche l'ottavo, perché si parte già dal primo pomeriggio con i ragazzi, per cui tutti i bambini da 0 a 13 anni possono fare la loro garettina promozionale. Poi è la volta delle non competitive che di non hanno ben poco, perché tra soci c'è sempre tanta battaglia, fino a finire la serata collegare quelle ufficiali per i tesserati alla FIDAL appunto, divise fra maschile e femminile nelle varie categorie. Quindi per le iscrizioni? Per l'iscrizione altre info che io non ho citato o dimenticato, tutto trovate sul sito www.correneiborghi.it Chiudiamo quindi con un riepilogo delle date di queste corse. Allora dicevamo appunto la prima, è venerdì 19 luglio a Clusone, con la Clusone Corre in Centro, poi si va il 26 sempre di venerdì a Cerete, località Cerete e altro, con Quaterpass su Esopero il Paese, il 2 di agosto ancora venerdì si va a Gandellino tra Sacro e Profano, il 9 di agosto a Castiglione della Presolana in località Brattola Corre in Bratt e si chiude con la quinta gara di sabato 17 agosto a Parre con la Run Parre.